Il Taranto continua a lavorare in vista della trasferta di Picerno in programma domenica e valida per l'ultima giornata di campionato. I rosso-blu di La Terza giungeranno all'appuntamento forti di una salvezza già in tasca ma volenterosi di chiudere al meglio una stagione nella quale i play-off sembravano realmente alla portata ma sono poi sfumati complice a un girone di ritorno a ritmi calanti. Come detto nei giorni scorsi tre pali potrebbe esservi l'esordio di Loliva. Chiorra ha difeso la porta rosso-blu per tutta l'annata a eccezione di sabato scorso quando La Terza ha concesso un'opportunità ad Antonino e lo stesso potrebbe fare tra tre giorni nei confronti dell'estremo difensore ex Gravina e Bisceglie. Per di più tra i tre è l'unico a essere regato al club rosso-blu anche per la prossima stagione. La difesa Tarantina vive un periodo di forma importante. Nel mese di aprile la porta è stata violata in una sola circostanza a Messina, complice un errore di Chiorra. Per il resto è rimasta imbattuta contro Juve Stabbia, Monopoli e soprattutto Bari. Ma domenica mancherà il fulcro della retroguardia Walter Zullo appiedato per un turno dal giudice sportivo insieme a Marsili e Pacilli per quest'ultimo due giornate di squalifica. Al posto dell'ex Avellino spazio a Benassai che andrà a comporre il pacchetto centrale insieme a Granata.